Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Noi ti preghiamo, o Santa Caterina, di farti nostra avvocata al trono di Maria. La Santissima Vergine ti ha scelta per dare a noi, nella Santa Medaglia, un pegno delle sue misericordie, noi ti scegliamo per presentare a lei le nostre misere preghiere. Intercedite in noi presso la Madre Buona, che hai tanto amata. La tua intercessione ci ottenga di amarla pur noi, e di portare la benedetta medaglia sul cuore. Meglio ancora di sentire i palpiti dei cuori di Gesù e Maria. Per ricambiarli con tutto il nostro amore, per la salute eterna. Così sia. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.